Gossip Itavip, se lo sussurra, lo svegliamo. L'uscita di scena di Mario Cusitore da uomini e donne ha lasciato il pubblico sorpreso, scatenando reazioni contrastanti sui social. Secondo una segnalazione condivisa da Dejanira Marzano, esperta di gossip, un utente ha rivelato che Mario avrebbe confidato a un amico di essere un elemento chiave per gli ascolti del programma. Per questo motivo non sarebbe escluso un suo possibile ritorno, magari su invito della produzione, interessata a mantenere alti gli indici di gradimento. Le affermazioni, se confermate, mostrerebbero un lato strategico della trasmissione, più orientato a dinamiche di audience che alla genuinità delle storie. Tuttavia, conoscendo il carattere del Cavaliere Campano, molti restano scettici sulla veridicità di queste voci. La puntata con l'addio di Mario non è ancora stata trasmessa, ma si ipotizza che possa andare in onda nelle prossime due settimane, seguendo la cronologia delle registrazioni. Restano attesi ulteriori sviluppi.